VETRINETTA LIBRARIA Parleremo oggi di un libro di Leonardo Nicotera, Il Signore mi ha chiamato. Ecco qui. La casa editrice è la cooperativa editoriale Il Petterosso di Crotone ed è stato uscito nel mese di settembre 2012. Sono 141 pagine senza prezzo, evidentemente sembra fuori commercio. Provo imbarazzo, ma anche gioia nel presentare questo itinerario spirituale di Leonardo Nicotera, che ho conosciuto quando insegnavo religione negli anni Ottanta verso l'Istituto Industriale Donegani, che, come sapete, aveva due sezioni, quello di chimica in viattito Minniti e dell'elettrotecnica sotto il castello di Carlo V. Chi è Leonardo Nicotera? È nato a Crotone l'11 agosto 1957 e ha conseguito qui il diploma di perito elettrotecnico. In seguito ha frequentato l'Istituto di Scienze Religiose Unus Magister a Crotone. L'ho ritrovato proprio in questo corso nell'insegnamento di dottrina sociale, di comunicazione sociale e di psicologia della religione. Uno studente attento e scrupoloso. Questa sua prima pubblicazione, Il Signore mi ha chiamato, potrebbe solo in parte dirsi autobiografica, in quanto racconta il suo itinerario spirituale, ma presenta alcuni aspetti interessanti per analizzare alcuni fenomeni mistici contemporanei a cui l'autore si è avvicinato, traendone profitto spirituale, ma non riuscendo a fare un'analisi critica dei fenomeni. Questo potrebbe essere praticamente un aspetto. Come la psicologia dei fenomeni religiosi si propone di fare, e non solo in chiave psicoanalitica, basti pensare a psicoanalisi e religione di Eric Fromm. La prefazione, presentazione, è niente di meno di Monsignor Giancarlo Bregantini, di cui potete vedere qui nella prefazione c'è anche la foto, che definisce questo bel libretto, semplice, immediato e facile. Aggiunge che Leonardo Nicotere racconta, non per stupire, ma per edificare. Lo schema del libro, quasi una trama di esperienze attraverso le quali egli raggiunge una fede matura. Capitolo primo, la lontananza, pagina 11, poi la mia chiamata, pagina 13, allora dice, sostenuto da padre Bregantini, che gli regala un Vangelo. L'incontro con padre Gino Burresi, detto padre Gino, che ha detto di alcuni devoti pellegrini, emanava un intenso profumo di rose. Ho conosciuto anch'io fratello Gino, recandomi come accompagnatore di un pellegrinaggio che doveva recarsi a Roma per il giubileo, e segretario di padre Gino, era a far vittorio, proveniente proprio dal mio paese, dalla mia parrocchia, diacono, e io non ho sentito profumi di rose, però ho colto che intorno c'era un'aria di ricerca di Dio, di santità. Ricordo con piacere quell'esperienza, come la figura di Fra Vittorio, morto in Libano, molto giovane. Nella terza parte, il terzo paragrafo, nelle pagine 17 e 20, racconta la sua esperienza a Santa Chiara con i padri Stimmatini, un'esperienza che è divenuta per lui molto importante, perché ha fatto l'esperienza di vita cristiana. Da Santa Chiara poi ad Oliveto Citra, la terra di Maria, la famosa Vellente, la cui fama supera il confino locale. Ecco, come vedete, quindi, c'è questo fenomeno religioso di cosiddetti pellegrinaggi della fede. Adesso si organizzano pellegrinaggi per andare a Paravati, per sentire proprio la vicinanza di Natuzza, come prima si faceva da Crotone per andando a San Fittorino Romano, dove c'era Fratell Gino, poi i superiori l'hanno scostato quasi apposta, onde evitare queste cose, e via via. Cioè, ci sono questi che vengono chiamati, in un certo senso, i pellegrinaggi della speranza, ma io li chiamerei, per certi versi, i pellegrinaggi della ricerca, anche se è molto importante, non tanto i luoghi dove si va, anche perché intorno, purtroppo, poi, ci sono degli aspetti, che direi, quasi commerciali, c'è troppo rumore, si sente troppo l'interesse della raccolta di fondi, magari per fare delle opere. Io penso, per esempio, Paravati adesso sono impegnatissimi per la costruzione dell'opera che Natuzza aveva previsto. Ho avuto la fortuna di partecipare, mentre ero alla fiera del libro, alla presentazione del primo libro del giornalista della RAI, che parlava proprio di Natuzza. Adesso ne ha scritto un altro, la mia amica Natuzza. E mi ricordo di aver detto che la preoccupazione maggiore, e l'altro c'era il sindaco di Paravati, c'erano personaggi anche di un certo livello, e c'era anche il figlio di Natuzza. La preoccupazione maggiore è quella di apprezzare in questa donna la sua santità, la sua semplicità, l'amore per i poveri, e non creare un turismo religioso a livello speculativo. Ricordo che quelli che erano applaudirono, però quei personaggi che erano lì e che praticamente continuano ancora purtroppo su questa strada, allora non si può confondere la fede, l'esperienza religiosa, con gli interessi anche di strutture di carattere sagro. Ma questo è un discorso impegnativo, mettiamolo da parte. Il capitolo secondo è dedicato all'Eucaristia, fonte e il culmine della vita cristiana. Il terzo capitolo tratta della conversione con ritorno a Dio, la sofferenza purificatrice, ed il 9 luglio del 2004, una strana malattia, per cui sente come una voce dal cielo che lo chiama. Poi il capitolo quarto parla della guarigione e l'incontro con Don Michele Vassallo, l'ho conosciuto pure io, questo era un diacono, mentre prestavo servizio con Don Vincenzo Aluisio alla parroccia di Santa Rita, quando era in largo primo maggio, il diacono Vassallo era un operatore nella parroccia di Santa Rita. L'incontro con Don Michele Vassallo e il mio rapporto col maligno, quindi c'è qui a un certo punto mi si raddrizzano le carni, a un certo punto, non lo so, è un sentimento contraddittorio, perché purtroppo il maligno, il male, piuttosto che il maligno è un male personificato, il male sta dentro di noi, tutti quanti portiamo il fardello delle nostre debolezze e questa libertà che è un dono prezioso, è come diceva un mio amico, è come un rasoio che può servire per raderti la barba o per tagliarti la gola, dipende dall'uso che ne facciamo. E poi, capitolo quinto, ho incontrato Natuzza Evolo. Infine ci sono le conclusioni, e praticamente che cosa bisogna pensare di questo libro? Una valutazione. Difficile entrare a gamba tesa in questo itinerario in cui finisci per entrare in una specie di ginepraio, è molto difficile, anche perché ogni persona ha, per così dire, le sue aspettative, le sue tendenze, un equilibrio raggiunto, alcune volte anche instabile. L'analisi psicologica dei il Signore mi ha chiamato avrebbe bisogno per essere valutata con un incontro a tu per tu in uno spazio di tempo adeguato. Il tutto potrebbe essere come atteggiamento opportuno, discutibile, è come muoversi in un terreno che sta tra la palude e il deserto. Puoi sprofondare se incontri la sabbia mobile, puoi rimanere a galla. Dipende da chi e da come ci si muove. Ecco, quindi, è interessante però questa testimonianza, perché la cosa più importante è questa, che l'amico nostro è una persona serena, luminosa. Leonardo Nicotera, allora, Il Signore mi ha chiamato, cooperativa editoriale, Il Pettirosso Crotone, settembre 2012, pagine 141. Senza prezzo, lo potete trovare presso le librerie a Crotone. Nutri, doveva? La mia chiamata, Dio, Lo potete trovare!